Sembra che siamo a una svolta soprattutto per l'Arezzo, nel senso che il Comune sta dando veramente un apporto grande a questa nostra volontà nell'avere un nostro centro sportivo da mettere come annesso allo stadio. Quindi l'US Arezzo nel proseguo degli anni avrà una sua struttura privata dove potrà adattarla al centro sportivo. Quindi ancora è abbastanza tortuoso il percorso da praticare, però siamo sulla buona strada. Io credo che siamo a un work in progress abbastanza avanzato, quindi c'è da dettagliare alcune condizioni, alcune situazioni più che altro di intese tra l'US Arezzo e il Comune. Credo che nel giro, o quantomeno, ci siamo dati delle tempistiche con l'assessore entro il 31 di marzo di avere già le chiavi per incominciare a lavorarci. Diciamo che c'è un forte interesse dovuto anche a sicuramente i risultati della squadra, della società, di quello che abbiamo dimostrato in questo periodo, di avere comunque un profilo basso, di lavorare dignitosamente senza fare proclami, sicuramente è apprezzato anche da persone che da fuori ci vedono. E in questi giorni c'è un forte interesse da parte di un gruppo di imprenditori nell'acquistare una percentuale della società. Ferretti, come ha sempre detto, e con tutto poi quello che ha fatto, soprattutto in quest'ultimo periodo, per la società, rimarrà il presidente e soprattutto il maggior azionista dell'US Arezzo. Bisogna crescere in tutto, bisogna crescere non solo come società, ma anche come senso di appartenenza, quindi abbiamo iniziato anche con progetti nelle scuole, come tutti ben sapete. I tifosi bambini diventeranno i tifosi veri di domani, quindi il nostro progetto è quello già in estate di provare a partire con i campus estivi e poi a settembre con la scuola calcio. Ma questo necessita di avere, si ritorna al discorso di prima, un centro sportivo dove appoggiare questi ragazzi. Non possiamo pensare di mandare i bambini in giro per la provincia d'Arezzo senza avere una nostra dimora fissa o quantomeno un nostro punto d'appoggio perché poi parliamo di bambini e non di adulti o persone che si possono spostare senza chiedere aiuto a nessuno.